Bentornati fratelli di Tuberanza nel settimo episodio su Dragon Ball FighterZ dove miei cari amici inizieremo l'arco guerriero nemico Ovviamente prima di iniziare ringrazio tutti coloro che hanno appena condiviso questo episodio Grazie mille gente e grazie anche a chi ha cliccato il pollicione all'insù Ora iniziamo nuova partita Vediamo un po' di che cosa si tratta e con chi giocheremo Ma cosa? È l'impero del male? Volunga Quindi siamo su una Mac Addio C16 e Android 21 Che cosa avranno chiesto però? Bella domanda Ah Ha chiesto di resuscitare tutti i cattivi Sì Ti sento fra Bene Bene Esatto Ma non serve Ok E ragazzi Manco a farla apposta La prima connessione è con il mio personaggio preferito Grande Dragon Ball FighterZ Ok Ok Mamma mia che figli Troppo belli Troppo belli Andiamo con il teratone con quella di Goku In realtà mi è andata meglio Nel tuo corpo Ma quindi Ma quindi Che cavolo siamo noi È Freezer dentro di noi Ok Ok Piacere di conoscerti Il che mi sorprende Però Intollerabile Come liberare Freezer No È Falle Bella domanda Preparate Vabbè Avete presente di quale parata si riferisce Quella di tutti i folletti negli inferi No Vabbè Dai Si è capito È la scena iniziale del film Tra l'altro No Non puoi Ok Va bene Va bene Va bene Insomma la stessa cosa che è successa ai buoni Ora succede ai cattivi Mazza però È riuscita a crearla Una sfera letale Quindi Cioè io stavo parlando Lui ha Dato di matto Ok E invece è possibile E invece è possibile Sì ma ti rendo più forte zio Minaccia anche Quando non può ragazzi È per questo che lo amo Va bene Mi faccio la parte Ok Penso sia tornato Freezer Dallo sguardo lo deduco Vediamo se ho ragione Grande Non voglio sentire scusa Esatto Non hai la forza Per farlo E invece no Non hai la forza E da chi Si Si chiama Andrade 21 Non hai la forza Perché non hai altra scelta Freezer Ti devi fidare per forza Esattamente Ah quindi siamo terrestri Esattamente Al mio servizio Volentieri Assolutamente no zio Non mi permetterei mai Soprattutto a te Ok eccola qua È stato attivato Controlla il menu modifica squadra e galleria archi Ragazzi miei Eccoci qua Subito con la mappa dedicata A Freezer e ai malvagi Allora vediamo un po' Dove mi conviene passare Ok Combattimento superato E andiamo al boss Niente po' di meno che Napa Ti affronto La trama si infittisce Rianimazione di Freezer Che paroloni Perché ha gli occhi bianchi Perché ha gli occhi bianchi Vabbè Vabbè Freezer contro Napa Va bene così Non vedo l'ora di trasformarmi nella gold E ve la farò vedere Perché ragazzi miei Ho capito quali tasti Devo premere Esattamente Perciò Tenetevi pronti Perché quello che state per vedere Ha dell'incredibile Ha piazzato il Cyberman Lui Ne ha piazzato un altro All'urido Aspettate che mi ricarico Guardate un po' Gold Freezer Ma leva Porca miseria Avete visto? Boom È bastato pochissimo proprio Vai 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 Dammi un po' di esperienza E ricaricami la vita Si è ripreso Baffo Certo che mi ricordo Ah è vero Perché quando lui lo incontrò Freezer era nella forma base Non era perfetto Eh no Se hai un aspetto Completamente diverso Poveraccio come fa Beh tanto te la doveva già prima Uno a fianco all'altro Hai visto? Andrade numero 16 Una storia più pacifica Sei arrabbiato? Certo che lo sono Beh immaginavo Hai ragione Naif Ah ok Tra l'altro guardate la faccia di Nappa Che vede Freezer parlare da solo Chissà quello che sta pensando Esatto Esatto Quel Saiyan Kakarote Esatto Ammazza Freezer però Cioè non ti si può parlare Ah ok Ti elimino Alleato salvato Nappa È disponibile nel menu Modifica squadra E io lo vado subito a settare Ragazzi se da adesso in poi Sentite dei piccoli Ticchetti È perché questo qua sopra È un emerito idiota E sta battendo con il martello Senza un Apparente motivo Quindi cercate di ignorarlo Allora passiamo da qui Poi potrei passare di qui Ora però Un combattimento Devo farlo per forza Attenzione Perché con il prossimo boss Noi salveremo Giniu E sono proprio curioso Di scoprire Il suo moveset Andiamo Ecco tutta la squadra Giniu È impazzito E infatti mi sembra Che sia così È impazzito Giniu Chi se ne frega Sei impazzito raga Tanto ora lo rimetto subito In sesto O in riga Entra un po' Nappa Faccio entrare un po' lui Lo voglio far combattere un po' Oh Boom 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 Ok Ho chiamato il Cyberman Aspetta che mi carico Aio Oh ragazzi Incredibile Boom 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 E vammori Ok Povero Nappa Ragazzi Gli ho fatto prendere Un sacco di mazzate Perché stavo provando Le mosse Che 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 gli appartengono Vero Sembra di sì Altrimenti Gli lo togliamo Noi il rispiro No ti prego Non ce n'è bisogno Esatto Come erano prima Esatto Alleato salvato Capitano Giniu Ragazzi lo vado subito A mettere in squadra E magari Lo andiamo a provare Il prima possibile Bam Eccolo qua Dunque 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 Vediamo Non ci sono icone Particolari Però se io passassi Da sotto Forse Vediamo se riesco Passiamo qua Passiamo di qua Wow Kid boo Vabbè chi se ne frega Raga Non tornerò mai indietro Per quel kid boo Ok ragazzi Siamo arrivati Al boss Ovvero Cell Il problema è che Non c'è Un'icona salvataggio Quindi Non potremo Reclutare Al momento Il grande Androide Cell Andiamo a fargli Il culetto E vediamo Cosa succede Freezer e Cell Squadra vincente Vediamo Esatto Non c'è Certo il problema Più Esatto Nanno rianimato Anche te Bravo Nappa Tu vuoi un po' Di mazzate Vero Cell Vediamo cosa Da dirci Quindi è successo Anche a te Esatto Certo Certo che si E forse te lo dirà Meno intelligente di quanto pensassi Oh le buone maniere con le cattive Volano parole pesanti ragazzi Pronti Via Vai così Tra l'altro ho provato anche Genio ragazzi Ha un moveset veramente orrendo Non è molto forte Ho provato anche a fare diverse combinazioni di tasti Ma Niente Non ci siamo proprio Per carità Fa delle buone combo Ma niente di Di entusiasmante Anche perché L'unica sua mossa Finale È questa Fine E non toglie neanche tanto Mi aspettavo lo scambio dei corpi Che non c'è al momento Boh vabbè pazienza Freezer è stato curato Al massimo L'abbiamo messo in ginocchio Direi Hai visto? Hai visto? Perché è così? Uno schifo La cacca Un animo artificiale Sì ma non è che ti rende più forte Quindi che senso Che senso avere Un animo artificiale Sotto Molto più grande È troppo bello ragazzi Non ci si metterebbe mai Stai al posto tuo Genio Anche tu Nappa Potreste essere Potreste essere Utili Un animo artificiale Ok Ok Le grandi Le grandi minacce di Freezer Ok Insomma amici per la pelle questi due Proprio best friend Qualcuno li sta monitorando Ed è proprio lei La strafigona Cosa Beh una cosa del genere è veramente assurda Potrebbero Cosa è una cosa del genere è un problema Cosa è una cosa del genere è un problema Inoltre è una cosa del genere è la persona che ha fatto La persona che ha fatto La persona che ha fatto Dove gli sconfitti? Cosa? Che cosa ci faccio i 18 qui? Ok Ragazzi non sto capendo davvero niente C18 dovrebbe essere con la figlia di Krilly E adesso mi sfugge il nome Dal maestro Muten tra l'altro E invece è qui nel laboratorio con numero 16 e 21 Uh abbiamo ottenuto un alleato Cell Lo vado subito a settare raga Togliamo Ginyu che è veramente scabroso E mettiamo Cell Adesso si che abbiamo un buon team Guardate qua Non ci sono alleati da salvare ancora Ma dobbiamo andare da C18 Amici miei per oggi è veramente tutto Noi ci vediamo con il prossimo video Sempre e solo qui Su Tuberanza Ciao